Anticipazioni una vita, domenica 11 aprile 2021. Santiago dice a Marzia di avere un nuovo piano per migliorare la loro situazione economica e glielo espone. Marzia intanto vuole lavorare sodo per l'ambasciata ma in breve tempo scopre che è stato Felipe a fare il suo nome e si sposisce. Ursula torna da Casias e tutti i vicini la trattano male e non sono affatto felici per il suo arrivo. La di Sinta però ottiene quello che vuole perché vede Enoveva spaventata per la sua presenza. Camino continua a stare male per l'addio di Maite e decide di parlarne con qualcuno. Così confessa a Cesario che fin dall'inizio l'è stato molto vicino di essersi innamorata. Sinta continua a dubitare del fidanzamento con Emilio. E' certa di amarlo ma ha la sensazione che si stia facendo tutto troppo in fretta. Marzia dopo aver fatto il colloquio va da Felipe e gli svela che sa che è stato lui a promuoverla. L'alvare sermoso lo conferma e ribadisce tutto il suo amore alla ragazza. Marzia non sa che rispondere e proprio in quel momento arriva a Santiago. Marzia non sa che rispondere e proprio in quel momento arriva a Santiago.